Weekend decisivo per le squadre molisane impegnate nelle fasi eliminatorie nazionali per l'accesso alla Final Six di Chianciano. Per il calcio giovanile la formazione allievi delle Acli Campobasso domani ospiterà la Sava Taranto. Alle 16 darà il fischio d'inizio Michele Di Cairano di Ariano Irpino. Dopo la gara interna contro la Renato Curi Angolana terminata 1-1 e la sconfitta contro la Dinamo Napoli, i campobassani cercheranno di dare il meglio contro la Sava Taranto per ottenere il pass finale alla fase successiva. Il girone ha quattro squadre formato dalle Acli, Dinamo Napoli, Renato Curi e Sava Taranto. Di queste compagini solo la prima classificata al termine delle tre giornate accederà alla fase finale prevista dal 25 al 29 giugno a Chianciano Terme. Al momento guida il girone con quattro punti la polisportiva Sava Taranto che è in un buon momento. La vittoria contro la Dinamo Napoli per 2-1 e il pareggio con la Renato Curi Angolana sono il metro esatto del loro stato di forma. Battere la Sava Taranto per arrivare a quota 4 è questo l'obiettivo del mister delle Acli, Enzo Nunziata. I ragazzi sono carichi e pronti, perciò si giocheranno il tutto e per tutto in una delle partite più importanti della stagione. Sulla carta lo scoglio è particolarmente ostico, ma i molisani hanno dimostrato nelle prime due giornate di non temere nessun confronto con nessun avversario. In caso di parità di punti, cioè di arrivo a quattro di Acli, Sava e Napoli, il criterio per decidere quale delle squadre passere il turno sarà la differenza delle reti. Queste gare rappresentano un'occasione per crescere e migliorare le proprie capacità. L'importante è giocare al massimo e portare a casa il risultato con convinzione e le Acli lo stanno dimostrando. Per quanto riguarda i giovanissimi di Santi Pietro e Paolo, reduce da due sconfitte esterne, domani scenderà in campo contro il Poggio degli Olivi Renato Curi. La gara è stata anticipata alle 10.30, arbitro del match Antonio Severino di Campombasso.